La Cogito Academy è la mia nuova scuola di filosofia pratica, che progetto nella mia testa fin dal 2016, ovvero quando ho cominciato a parlare di filosofia sul web. È rivolta a chiunque desideri trasformare la propria visione del mondo e la propria quotidianità attraverso l'uso di una filosofia pratica applicabile alla vita. La Cogito Academy è la prima scuola filosofica che vuole mettere insieme mondo online e mondo On Life. Da un lato video lezioni di filosofia che coinvolgono professori, esperti, personalità affascinanti in un programma annuale originale e stimolante. E poi le esperienze dal vivo, corsi in presenza, ritiri e seminari filosofici ed eventi esclusivi in tutta Italia. La filosofia si fa attraverso l'incontro e l'interscambio e per questo la Cogito Academy è prima di tutto un'esperienza trasformatrice. Le iscrizioni al primo anno accademico saranno aperte sabato 23 marzo e si chiuderanno il primo maggio 2024 e il programma completo del primo anno accademico dedicato all'attraversamento è disponibile sul nostro sito cogitoacademy.it. Vi aspettiamo!